ciao a tutti ragazzi bentornati qui sul canale nuovo video ed è il nuovo 2023 di sony perché eccola qui 2070 f4 il primo obiettivo che sono in lancia quest'anno e possiamo presumere che sarà un 2023 basato sulle lenti sono tante cose che devono arrivare ma questo è il primo obiettivo di questa serie g che si rinnova nuovamente portando un 2070 f4 non stabilizzato full frame abbiamo tante cose da dire su questo obiettivo che sicuramente farà parlare di sé e a mio avviso è un obiettivo che segna definitivamente il percorso di casa sony all'interno di questo 2023 e di quello che sarà il futuro del brand partiamo subito con quello che è l'aspetto estetico che cosa la lente offre siamo di fronte alla nuova serie g come già abituato il 16 55 2 8 apsc così come abbiamo visto in tantissime altre lenti ghiera dedicata per il diaframma cosa che adoro sinceramente ghiera per lo zoom e ghiera per la messa a fuoco sono queste le tre accessibili abbiamo poi due tasti programmabili ovviamente con una sola funzione che troviamo su entrambi i tasti in modo che sia quando facciamo riprese in verticale quando le facciamo in orizzontale possiamo accedere a questa funzione switch della messa a fuoco secondo me un pochino piccolo per la lente che è molto piccolo rispetto ad esempio al 24 70 g master io che ho dita grosse faccio un po fatica proprio a trovarlo e poi abbiamo lo switch per l'iris lock quindi settato su a o su tutte le altre senza andare su a e poi abbiamo l'ultimo che è il classico switch per permettere alla ghiera di fare i click oppure no quindi sostanzialmente siamo veramente di fronte alla solita lente sull'aspetto estetico e sono contento che sony stia continuando su una linea ben precisa filtri da 72 per un obiettivo che arriva fino a 30 centimetri vicino al soggetto per quanto riguarda la distanza minima di messa a fuoco cosa molto interessante perché a 20 mm effettivamente si possono ottenere delle riprese abbastanza particolari a livello tecnico è una lente super leggera state vedendo a schermo adesso i dati siamo di fronte a un obiettivo effettivamente molto interessante sia per le attuali full frame sia in ottica a 7c mark 2 che mi piacerebbe vedere leggermente rivisitata quest'anno però un obiettivo ideale per blogger gente che gira molto con la camera al collo e ha bisogno di un'escursione focale abbastanza interessante a mio avviso 20 mm e poco meno di 24 ma aggiunge quell'aspetto ultra grandangolare che a me non dispiace l'avevo già detto col 21 e 8 lo ribadisco qui è molto interessante e 70 permette di avere comunque una buona escursione focale come state vedendo adesso quindi obiettivo principalmente pensato per l'aspetto blogger una lente leggera ideale su full frame per riprendersi avendo molto spazio di lato e allo stesso tempo una lente che essendo un f4 non restituisce un gran bokeh ma una caratteristica peculiare secondo me della serie g nuova di sony una nitidezza pazzesca perché questo obiettivo qua se pecca di qualcosa sicuramente non pecca di nitidezza e di qualità dell'immagine mi sono troppo stra bene i risultati sono pazzeschi e già f4 si ottiene ad esempio in controluce una bellissima stella con il sole quindi davvero un obiettivo che sull'aspetto caratteristiche e qualità tecnica non pecchi in alcun modo obiettivo come vi dicevo molto leggero che sicuramente strizza l'occhio a un pubblico che non vuole spendere così tanto e non vuole avere un obiettivo pesante tra virgolette come il 24 70 g master o come il 24 105 altro tutto fare della serie g un pochino più vecchio ma stabilizzato e ovviamente con un'escursione focale decisamente più importante non nitido come questo ma comunque una soluzione che qui in studio noi adottiamo da un po obiettivo come dicevo pensato per i vlogger e quindi sicuramente un pubblico differente dal professionista full video full foto che cerca l'obiettivo perfetto come la serie g master ed è un po questo il pretesto per il quale sony ha introdotto la serie g dare determinate cose a livello qualitativo e costruttivo come ad esempio la ghiera per il diaframo gli switch i tasti programmabili su una serie non costosa appunto come quella per i professionisti che appunto la g master e proprio qui mi affaccio per fare un discorso molto breve ma molto diretto la serie g è il perfetto intermezzo fra il g master e le terze parti ok se prendiamo la serie tutto fare di sony abbiamo il 24 70 g master il 24 70 zeiss f4 che ormai è parecchio vecchio ma è stabilizzato abbiamo poi il 24 105 f4 anche lui stabilizzato ma che comunque comincia a sentire i suoi anni è una vecchia serie sony e allo stesso tempo questo obiettivo qua però si affaccia sul mercato con un prezzo di listino che sempre molto alto ma comunque di 1600 euro che una cifra che tutto sommato fa cominciare a storcere il naso quando devi comprare magari un 24 70 g master e con 500 600 euro in più ormai lo trovi oppure risparmiare tantissimo e andare di terze parti che offrono comunque tantissime focali come il 28 75 tamron 24 70 art il 24 70 samyang o anche il 20 40 tamron 2 8 per chi cerca magari questo tipo di focale con un'apertura maggiore e ci troviamo ad avere questo obiettivo qua che poteva essere la lente kit perfetta per a 7 4 a 7 r 5 eccetera ma costa troppo per essere in bundle e quindi sicuramente non la troveremo almeno all'inizio dell'anno in più sony a questo 28 70 che si portate da tantissimo tempo che è vero un tuttofare ma che non possiamo minimamente mettere in una competizione con altri obiettivi tra cui questo quindi la domanda che mi sono posto mentre lo utilizzavo perché effettivamente mi sono divertito è una lente leggera e su fx3 è un piacere utilizzarlo è a chi è pensato questo obiettivo mi sono provato a dare due risposte la prima è il foto amatore blogger professionista che vuole il massimo da una lente che costa quella cifra lì top nitidezza top qualità messa a fuoco perfetta e velocissima come ogni obiettivo sony della serie g che sono secondo me i migliori anche più di g master in alcuni casi oppure chi decide di costruirsi un parco lenti full sony perché vuole gli stessi colori lo stesso tipologia di lente eccetera eccetera e non vuole affacciarsi le terze parti per mille motivi che possono essere appunto anche solo la costruzione indubbiamente questo è costruito meglio di qualsiasi altro obiettivo di terze parti che abbia mai provato certo è che si trova comunque in mezzo a un limbo perché 1600 euro sono molti di meno rispetto forse a un g master ma nemmeno così tanti considerando che ormai appunto la serie 2 si trova fra i 2004 e i 2000 in base a dove lo comprate e allo stesso tempo costa quasi 900 euro in più di qualsiasi altra terza parte che arriva a questo tipo di escursione focale ma sono quasi tutte 2 8 e quindi vi faccio la mia leggera smorfia e mi chiedo c'è qualcuno fra di voi che trova in questo obiettivo benché sia f4 non stabilizzato e non power zoom una vera utilità nel proprio lavoro perché sinceramente io da possessore di 24 105 f4 stabilizzato trovo quella lente lì leggermente più interessante sia perché la uso in maniera quasi broadcast avendo un'escursione focale maggiore la stabilizzazione e soprattutto un obiettivo che costa 900 1200 euro se proprio lo vado a comprare nuovo da listino mi trovo qui una lente si interessante ma un 20 70 che quindi si guadagno 4 mm ma ne perdo praticamente altri 30 dopo e allo stesso tempo non ho alcun vantaggio a livello fotografico senza una stabilizzazione non posso utilizzarla banalmente per astrofotografi come potrei fare con un 21 e 8 e ho speso 1600 euro forse un po questa l'unica pecca di questa lente costa tanto e poteva offrire qualcosina in più secondo me con la stabilizzazione sarebbe stata super interessante una buona lente magari con il quale iniziare un percorso anche con la fx30 e avere già un full frame f4 pronto magari per un futuro upgrade di sensore questo secondo me è l'unica grossa pecca per il resto l'obiettivo come ho detto fin dall'inizio è super nitida e mi sono stra divertito perché è leggera e te la porti dietro molto volentieri mi è piaciuto anche molto per quanto riguarda la parte di distorsione e vignetta secondo me gestite molto bene soprattutto per quando si fanno dei tilt molto grandi io l'ho fatto ad esempio come state vedendo ora su un palazzo e devo dire che c'è pochissima distorsione benché avessi la correzione attiva su del profilo sulla camera ovviamente la camera questo obiettivo non sa ancora che esiste quindi ha fatto veramente un bel lavoro e secondo me su questo la serie g di sony come sempre è perfetta ragazzi già dal 21 8 si vedeva questa qualità all'interno della cura della distorsione qui si ripete semplicemente anche su un tuttofare veramente veramente fatto bene unica pecca state attenti essendo un 20 mm se montate filtri nd montando già due anelli di riduzione in foto si vede la vignettatura questo è l'unico grosso problema quindi ho comprato un anello adattatore direttamente da 82 a 72 oppure un filtro direttamente da 72 questa è l'unica pecca che ho notato perché effettivamente in foto come state vedendo si crea un alone enorme dovuto appunto dal doppio anello adattatore sull' nd piccola critica perché magari poi lo comprate vi ritrovate con lo stesso problema sotto i 24 questo succede sempre detto questo ragazzi voglio sapere un po quello che pensate credo che questo video sia perfetto per discutere e capire dove sony sta andando sarà comunque un anno secondo me incentrato sulle lenti tanti g master aspettano un upgrade e alcune camere riceveranno probabilmente aggiornamenti molto presto penso alla 9 3 ad esempio ma allo stesso tempo questo è un obiettivo che arriva adesso e fa discutere di sé e fa soprattutto capire molto bene al mercato dove sony si vuole piazzare con la costruzione di obiettivi g master e g serie pro e serie semi pro per amatori avanzati o chi vuole spendere davvero tanto e avere delle lenti qualitativamente perfette per tutto il resto ci sono le terze parti io credo che questo ormai sia un segnale chiaro da parte di sony voi cosa ne pensate fatemelo sapere con un commento qui sotto ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un like vi ricordo che la parte fotografica l'ha curata a mano sul suo canale vi appare qui sopra anche lui uscito con un suo video e niente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto seguitemi su instagram e telegram per non perdervi nuovi video nuove foto e post matti e ci sentiamo come sempre ogni lunedì alle 7 del mattino su messa a fuoco il nostro podcast ciao